Ormai è accertato che l'epigenetica ha un ruolo fondamentale nella nostra vita, eventuale sviluppo di determinate malattie e soprattutto nell'aspettativa di vita e della nostra eventuale longevità. E in questo periodo dove la longevità sta diventando un po' un must, dove tutti stanno ricercando le desideri lunga vita, ovviamente bisogna renderci conto che l'intervento epigenetico tra i più importanti è senz'altro quello nutrizionale. L'alimentazione è la base delle nostre cellule, noi siamo quello che mangiamo, diceva Feuerbach, ma già nel 400 a.C. Ippocrate diceva fai che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Di conseguenza bisogna recuperare questo concetto che in realtà è stato perso con la medicina moderna, convenzionale, che invece pone fiducia nella risoluzione di un'eventuale malattia esclusivamente nei farmaci. Hai colesterolo alto, prendi le statine, quando invece sappiamo come le statine siano in grado di generare altri problemi e tra l'altro poi la storia del colesterolo e malattie cardiovascolari in realtà sarebbe tutto da sfatare. Hai la pressione alta, prendi il farmaco e non cambi i tuoi stili di vita, fai un certo tipo di attività fisica, dimagrisci, hai l'osteoporosi, ti danno i bifosfonati che sono farmaci pericolosissimi che favoriscono addirittura l'osteonecrosi della mandibola e non invece un'alimentazione più idonea per favorire il deposito di calcio nelle ossa con eventuale integrazione specifica di vitamina di K2 eccetera. E questo è il dato di fatto. E quindi oggi c'è molto interesse nella nutrizione e nell'integrazione alimentare, però è anche vero che esistono delle linee guida che in realtà sono un po' obsolete e poi nella misura in cui devono essere formulate per tutti in realtà non si prestano a tutti perché bisogna capire che in realtà non esiste un'alimentazione idonea per tutti, ma l'alimentazione deve essere tarata per ciascuno di noi in maniera quasi sartoriale, sulla base della propria situazione, sulla base dell'età, del sesso, di quello che uno fa, dell'attività fisica, delle predisposizioni anche genetiche. Qui interviene il discorso che noi dobbiamo integrare le informazioni legate alla genetica e quelle invece legate all'epigenetica. di conseguenza fondamentale per una medicina di precisione che oggi è necessaria per poter fare un intervento reale, terapeutico, è poter avvalersi di test che siano in grado di poter identificare la situazione del soggetto e poter intervenire di conseguenza. Tutti noi sappiamo che si fanno i test del sangue, cioè gli analisi del sangue per vedere determinati parametri e intervenire di conseguenza, ma in realtà il sangue esprime una realtà dinamica che non sempre riflette la situazione a livello cellulare e invece è molto importante poterci rendere conto già a livello cellulare o addirittura subcellulare della nostra situazione, perché se a livello cellulare noi abbiamo già delle alterazioni, degli squilibri, delle disfunzioni, queste saranno se tanto programmi dello sviluppo poi di determinate malattie. Ebbene esiste un test epigenetico che è il test S-Dry Cell Welding che è in grado proprio di fare ciò avvalendosi semplicemente del prelievo del bulbo di qualche cappello, 4 o 5 capelli, ed esaminando questi capelli, posizionandoli in un device che è in grado di valutare fondamentalmente le loro frequenze elettromagnetiche che vengono poi confrontate con un server in Germania che praticamente ha tutte le frequenze elettromagnetiche dei vari cibi, delle varie vitamine, minerali, aminoacidi, sistemi d'organo, è in grado di valutare quindi eventuali dissonanze ed eventuali squilibri. E quindi da questo report che tra l'altro viene fornito in solo 15 minuti, noi abbiamo la possibilità di fare un intervento personalizzato a livello di alimentazione, quindi magari limitando quei cibi che in quel momento non sono compatibili con noi soprattutto dal punto di vista energetico, ma anche intervenire con un'integrazione specifica a livello di minerali, aminoacidi, vitamine, antiossidanti, acidi grassi, intervenire nell'eliminare eventuali tossine ambientali, additivi alimentari, virus, batteri che vengono identificati grazie proprio alla loro frequenza elettromagnetica che viene riconosciuta. Ebbene questo test è disponibile ovviamente per poter utilizzare questo test è fondamentale anche essere in grado di interpretarlo, non solo avvalersi del device. Ebbene per questo invito a partecipare al corso di formazione e certificazione che si tarà a Bologna il 2, 3, 4 febbraio presso il Sydney Hotel. Il corso è aperto a tutti i professionisti della salute.